ok bella raga oggi parliamo di derp s4 di vice pascat allora ho aspettato questa luna è uscito il 22 dicembre però ho aspettato a fare il video come avevo già detto nella reaction dei logo perché doveva ancora uscire l'ultima traccia quella con fringhe siciliano morobuto e davide shorty allora partiamo subito dall'inizio cioè un album strepitoso cioè hip hop con entrambi la ca maiuscole pieno di ragazzi giovani che la cosa c'è giovani o simi sconosciuti e la cosa mi piace perché giustamente lui da spazio tra tutti da molto bar tutte le barre che ci sono stati molto belle alcune anche taglienti bestemmia clean che quello non per me non bastano mai e vabbè gli scratch vabbè sono quelli fascato quindi non c'è non aggiungo niente perché sono spaziali un artista che mi ha allora degli artisti che mi hanno colpito sono stati binario 4 molto bella la traccia e jomi che anche lui mi ha colpito un sacco perché è molto bravo e poi forse se voglio parlo il suo ultimo album finalmente e poi anche lì un pochino gioco in casa perché la vennate quindi ci sta che io ce ne parli anche bene perché poi non è della della provincia è della provincia ecco vabbè poi i soliti che stanno sempre nei suoi mixtape album di ritascato misgravo sace buster kito e k e virus e quant'altro molto molto belli cioè bravi quindi non gli puoi manco dire niente molto molto bella la traccia quella con lanscan sace e clever gold molto bella quella traccia poi quando c'è durante i periodi anche conflitto come sarà scritto appena inizio del conflitto in palestina perché non si spiegherebbero secondo me poi un po all'altra traccia che mi ha colpito è quella di binario 4 ai knock out quella con cui ha il primo singolo estratto dall'album veramente bella c'è proprio ti gasa e poi schillatissimi che lì è un schillati parte 2 in pratica della leader post 3 e poi chi altro ha poi a carte scoperte che è molto bella un'unica nota negativa l'ho trovato l'unica e che finisce quindi c'è parte quello verità tanta roba il fatto che segue il logica dei politi istinti volete maledetti quella roba lì quindi tutta gente che non viene calcolata perché poi tu molti sono gente sconosciuta del nostro giro giovanissimi emergenti quindi c'è nato molto valori fatti quando la scatta detto io l'ultima traccia quella con franck siciliano da video short la pubblica per ultima più più avanti perché giustamente io voglio che ascoltiate prima i ragazzi nuovi dalla scena e poi tutti gli altri e gli altri che loro hanno fan base sono famosi per motivi diversi sono famosi e quindi non hanno bisogno di presentazioni ma per il resto un album molto greve 50 minuti che mi dura anche un po rispetto ad altri album non suoi c'era il solito così tanto però tipo rispetto alle club dog che è uscito settimana scorsa ci sta c'è molto più lungo poi ecco questo ci sono e parliamo al volo dell'ultima traccia quella di dice sciocca di sacro santo che ha fatto la collaborazione con clementino e sarin bobo in due pelati e niente anche quella traccia poi per il resto tutto in regola ascoltatevi del ps4